Ecco i consigli per la pesca di Alberto. Buongiorno, ormai a Laghetto Cantone tutti i pesci sono a galla, si prendono in tutto il lago, destra a sinistra a quarta acqua bassa, tutti completamente a galla. Che montature usate? G1, G05, G06, camora e divertimento garantito. Grazie Alberto! Ciao! 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 Ciao!